...che non la vedete sopra, ci sarà una mostra, non so, bella altrettanto celebre e prestigiosa, ma do l'Accademia, una mostra che è germinata... La cosa più importante era motivare non solo le persone, ma tutti quelli che stanno intorno, perché nessuno credeva possibile dopo 50 anni che si aprisse il palazzo. Per cui la cosa più difficile è stata tenere sempre focalizzato l'obiettivo e convincere gli altri che sarebbe avvenuto davvero. Giuseppe Pellizza da Volpedo, Fiumana, è un dipinto che, tecnicamente divisionista, è un capolavoro di quella che è la pennellata divisa, la pennellata in cui l'artista sperimenta e riesce in maniera eccezionale a dare la vibrazione del movimento, la vibrazione di colore e luce che dialogano insieme. Noi gestiremo tutti questi luoghi nello stesso modo, con la stessa comunicazione, con lo stesso desiderio di comunicare sempre i valori sotto il nostro lavoro, il nostro impegno, che sono quelli della conservazione, dell'identità e anche della sostenibilità. che è stato molto valido, che sono veo insieme ad una vibrazione di risulta che non si aprirà e quindi da essere un lato che si possono fare. Questa è una cosa che si può vedere, la gente è sentita molto veloce, la gente è sentita molto veloce. Allora facciamo la nostra parte del nostro, Il Cenacolo entra a far parte di un sistema che implica una comunicazione, un modello di lavoro tutto uguale. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.